Mercato, rivoluzione in arrivo a Treviso con l'approvazione da parte dell'Aggiunta Comunale del Piano di Revisione delle Aree Mercatali. Sicurezza, qualità e decoro, i punti cardine del piano che approderà in Consiglio Comunale. Tutti tesi a riqualificare i mercati, tra cui mi piace ricordare il provvedimento che vieta la vendita dei prodotti usati, a meno che non si tratti di usato di grande qualità, immagino ad esempio a un bel banco che possa avere dei prodotti vintage o dei libri usati, quindi un mercato più qualitativo. Nuove regole per cambiare le tende, per i banchi itineranti e soprattutto in occasione di eventi, la possibilità per i negozi di vendere su banchi all'esterno dell'attività commerciale senza particolari iter burocratici. Ecco allora che nel nuovo piano vi è una norma che consente a coloro che hanno attività in sede fissa, i nostri commercianti, poter uscire dalla propria attività e vendere i propri prodotti senza richiedere altre autorizzazioni. Era da tanti anni che si discuteva se manifestazioni che vengono ospitate in città sono utili o danneggiano il commercio. Ecco questa è una risposta. Nel frattempo, dal 21 gennaio a Treviso, il mercato riprenderà con i banchi di tutti i settori merceologici. Sempre come è avvenuto nel periodo precedente con le aree delimitate, con un'entrata o un'uscita e le verifiche anche all'interno delle aree mercatali che non ci siano eccessive aggregazioni di persone all'interno magari di un singolo banco.